Musica Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Chi sa ridurre i rifiuti indifferenziati pagherà una bolletta più leggera. E' questa la sfida che sarà lanciata per una partecipazione diretta dei cittadini che riducono al minimo i rifiuti non riciclabili. La novità è stata annunciata questa mattina dall'amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennett che ha partecipato al World Clean Up Day. L'iniziativa Care Retake Salerno ha tenuto nella zona del quartiere Sant'Eustacchio. Il primo servizio di oggi. Migliorare i risultati della raccolta differenziata, diminuire la produzione di rifiuti, garantire ai cittadini salernitani una tariffa commisurata ai rifiuti prodotti. Partirà per l'inizio del nuovo anno un servizio sperimentale che con un campione di 2100 utenze permetterà di attivare uno studio di fattibilità che porterà ad una premialità per i cittadini nel pagamento dell'Atari. Chi sa ridurre i rifiuti indifferenziati pagherà una bolletta più leggera. E' questa la sfida che sarà lanciata per una partecipazione diretta dei cittadini, premiando i comportamenti virtuosi di chi differenzia correttamente i materiali riciclabili e riduce al minimo i rifiuti non riciclabili. La novità è stata annunciata questa mattina dall'amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennett, che ha partecipato all'World Cleanup Day, l'iniziativa che il Retake Salerno ha tenuto nel quartiere Sant'Eustacchio. L'obiettivo è semplice, pagare in base alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e gettati nella spazzatura. La tariffa puntuale è questo, ha spiegato Bennett, un prezzo che nasce dal sistema di calcolo prodotto dalla pesa dei rifiuti che consente di determinare una tariffa proporzionale. Il progetto sicuramente parte, anche perché la Tarip, che sarebbe la tariffa puntuale, è un obbligo di legge. Il Conai ancora una volta ci è stato vicino, noi stiamo lavorando molto con i consorsi di filiera e quindi ha finanziato questo studio di fattibilità che stiamo mettendo in campo e che presumibilmente partirà tra dicembre e gennaio. Quindi si partirà con 2100 utenze sperimentali che avranno un mastello dedicato con il cosiddetto RFID, quindi con un codice identificativo. Questi rifiuti ovviamente saranno pesati e poi successivamente raccolti per creare un algoritmo che ci consenta di premiare negli anni che verranno i cittadini e le imprese più virtuose nel conferimento dei rifiuti. Un'occasione di stimolo per i cittadini a differenziare bene, per pagare di meno, ma allo stesso tempo anche un'occasione per poter stanare gli incivili. No, sicuramente, insomma, noi l'abbiamo sempre detto, bisogna remare tutti nella stessa direzione. Comincio a vedere effettivamente una grande attenzione da parte dei cittadini, i risultati sono in netto miglioramento, continuano a migliorare. Noi stiamo lavorando anche a un progetto per migliorare l'attività di spazzamento, ma io lo dico sempre, insomma. Salerno Pulita riesce a rendere un servizio più efficiente, ovviamente se c'è la collaborazione di parte dei cittadini, che conferiscono meglio e che, diciamo, buttano a terra qualche carta in meno. Allora, dal punto di vista economico noi continueremo nelle opere di sensibilizzazione, quindi ovviamente il nostro principale obiettivo è quello di ridurre la Tari, quindi ovviamente meglio si differenzierà, meno si spenderà per lo smaltimento del non differenziabile, ma ovviamente metteremo in campo tutta una serie di iniziative, compresa quella che è la sostituzione dei carrellati del non differenziabile. Quindi stiamo predisponendo il progetto, anche in quel caso noi dovremmo avere carrellati con il cosiddetto RFID, con questo codice identificativo, anche questo è un obbligo di legge, anche questo previsto dai CAM, i cosiddetti criteri ambientali minimi. Quindi un ulteriore beneficio sarà quello di sostituire i carrellati per il non differenziabile per tutte le utenze, ovviamente questo con i risparmi di spesa messi in campo da Salerno Pulita. Il Retake Salerno è impegnata in città, in azioni di rigenerazione urbana e tutela dell'ambiente. Questa mattina ha sposato l'iniziativa globale del World Cleanup Day, l'evento che coinvolge tanti volontari con l'obiettivo di ripulire le aree in cui viviamo e restituire loro la bellezza naturale. Vediamo com'è andata. Un piccolo impegno può fare la differenza e il World Cleanup Day è l'occasione perfetta per dimostrarlo. Panchine colorate, spazi puliti, la piazza del quartiere Sant'Eustacchio a Salerno come un salotto, dal degrado alla bellezza coinvolgendo la comunità locale a prendersi cura degli spazi, riservando un'attenzione particolare alla pulizia e alla rimozione dei materiali. Così questa mattina in viale salvo d'acquisto la Fondazione Ritec ha partecipato al World Cleanup Day. Ritec Salerno opera da più di un anno sul territorio cittadino, d'intesa con l'amministrazione comunale di Salerno e con l'assessorato all'ambiente. Stamani per l'iniziativa con Sara Petrone, responsabile della sezione Ritec Salerno, anche l'amministratore di Salerno Pulita, Vincenzo Bennett, e l'assessore all'ambiente del comune di Salerno, Massimiliano Natella. Grandi ma soprattutto piccini che si sono divertiti a dipingere panchine, quanti hanno partecipato stamani all'evento per riqualificare la piazza centrale insieme al cittadino attivo che da anni se ne prende cura, Alfonso Avallone. Sì, come sempre noi nei nostri eventi lasciamo un segno del nostro passaggio, perché non tutti ci vedono magari all'opera, ma è bello quando il cittadino passa e vede la differenza tra prima e dopo del nostro passaggio. e soprattutto è una differenza che parla di amore per i luoghi pubblici, di amore per quello che la città ci dona, anche gli arredi urbani. Sì, sono belli, funzionano, però noi gli abbiamo dato un tocco di colore per dire anche al cittadino, vive con consapevolezza questi spazi. Siamo in una piazza, come hai ben detto, un salotto. Perché un salotto? Perché da anni è curata da uno dei, a mio avviso, migliori cittadini attivi della città, perché ha il coraggio di curare addirittura 1200 metri quadri di aiuole completamente da solo, ormai è famoso Alfonso Avallone. e stiamo venuti qui a far vedere alla piazza che è bello prendersi cura di questo spazio. Non è una perdita di tempo, non è perché uno non ha cosa fare, o diciamo è uno sfigato, non so se si può dire, ma è bellissimo. Infatti stando qui, pittando le panchine, pulendo con i ragazzi di Voglio un Mondo Pulito, io ringrazio Udicon e le realtà della piazza che hanno voluto partecipare. Abbiamo visto che i bambini scendevano dai balconi, ci hanno guardato e sono venuti scendere per pittare anche loro le panchine. Che cosa significa questo? Che la panchina non l'ho pittata io, di Ritec. L'hanno pittata loro che abitano qui. Sì, è un esempio di civiltà. Poi i colori hanno anche un loro senso, un loro perché. È stato fatto anche in altri posti della città. Vada continuato questo rapporto e vada coinvolto anche la città e il resto dei quartieri. Assessore, un bel segnale, ma arrivano segnali però un po' scoraggianti da parte dei cittadini che spesso negli ultimi tempi puntano l'indice rispetto al decoro, alla pulizia, al verde, ai capistrada della città. Sì, questo è un po' il tema che... Stiamo ovviamente valutando tutte le azioni necessarie del caso. Abbiamo parlato di mancanza di diserbo, di una serie di cose che purtroppo nella fretta anche di un appalto che è stato fatto un anno e mezzo fa, voglio dire, ci siamo incappati. Una fretta, diciamo, di fare l'appalto ci ha portato delle difficoltà. Noi correremo ai ripari, sono anche convinto che però c'è anche, come dire, un oltremodo, un senso, diciamo, da parte dei nostri non cittadini che sono pronti a puntare sempre il dito sulla stessa cosa. Guardiamo soltanto le cose negative, magari ci sono anche tante altre cose positive che non guardiamo. Cercheremo di invertire la rotta, avremo la scadenza dell'appalto fra alcuni mesi e lavoreremo appunto per fare in modo che l'appalto successivo potrà avere tutti i miglioramenti che, diciamo, la soluzione delle problematiche di questi mesi. Quindi è una parentesi che ci auguriamo fino a quanto prima e poi, assieme alle altre cose buone della città, cercheremo di metterci in careggiata. Occupiamo ora di politica, seconda giornata, Pestum per il Berlusconi Day, protagoniste della mattinata alle donne di Forza Italia, i comitati regionali del Movimento Azzurro Donna, la testimonianza di Filomena Lamberti ed il toccante messaggio del segretario nazionale Antonio Tajani sulla cultura della violenza di genere ha catturato l'attenzione e l'emozione di numerosi partecipanti all'evento attesa per il Consiglio nazionale di domani che chiuderà il B-Day. Sentiamo. Giorno 2 al Berlusconi Day, mattinata impegnativa di lavoro ma anche di riflessioni sulla violenza di genere e da parte del coordinamento nazionale, regionale e provinciale di Azzurro Donna. Il messaggio di Tajani è stato fondamentale e ha commosso tantissimi. Abbiamo visto anche la testimonianza della salernitana Filomena Lamberti, vittima di violenza di genere tanti anni fa, la sua testimonianza ha toccato tantissimo le donne presenti in sala ma non solo, anche gli uomini. Il messaggio lanciato da Antonio Tajani è stato anche quello di chiedere scusa, infatti ha chiesto scusa da parte di tutti gli uomini dopo aver ascoltato le parole di Filomena Lamberti. Abbiamo però ascoltato la coordinatrice regionale di Azzurro Donna ma anche la coordinatrice provinciale del Movimento e tanti altri. Bisogna cominciare da quando si è a casa, giovani, le famiglie devono insegnare ai figli, soprattutto ai figli maschi, di rispettare le sorelle, di rispettare la mamma, di rispettare i loro compagni di scuola. Non esistono esseri superiori ed esseri inferiori. Io ricordo che inflissi la sanzione più dura mai inflitta al Parlamento europeo e all'epoca ero presidente a un deputato polacco che disse che le donne erano esseri inferiori. Lo feci perché bisognava dare un segnale forte. Adesso le leggi purtroppo servono perché bisogna impedire che ci siano violenti che rovinino la vita di donne o che tolgano la vita alle donne. Oggi abbiamo dato un segnale forte di sostegno alle donne in difficoltà in difesa della libertà di ogni donna di poter essere donna libera di fare le proprie scelte. Carietà e aiuto. Quindi tendiamo prima di tutto la mano affinché una donna non si trovi mai sola, ritornando alla tematica di oggi, e possa avere il coraggio di denunciare contro chi decide per lei di non dover più vivere oppure di vivere una vita non degna. Noi abbiamo fatto un progetto con le forze dell'ordine della polizia che si chiama Una casa per te all'interno delle questure dove le donne si possono rifugiare per un primo soccorso. È stata creata una app che si chiama YouPol con la geolocalizzazione. Quindi chiunque, invito anche te e chiunque, perché ricordiamoci che nessuna di noi può non essere violentato può non essere infastidita. Quindi io l'ho fatta scaricare ai miei nipoti, ai miei amici, perché basta premere un tasto e con la geolocalizzazione immediatamente arriva il pronto soccorso. E ultima cosa, abbiamo finanziato con Azzurro Donna Napoli un progetto che si chiama Angel Watch in collaborazione con la Vodafone e con l'arma dei carabinieri in tutta Italia. Sono stati già consegnati 40 Angel Watch alle donne che hanno denunciato alla procura e quindi sono state messe sotto protezione, però non hanno voluto lasciare la propria abitazione. Quindi con questo Angel Watch loro basta che schiacciano un tasto e all'interno è come se ci fosse un piccolo computer che memorizza tutto quello che la cronostoria le denunce, gli abusi, tutto quello che praticamente c'è da sapere in caso di pronto soccorso. Il mio pensiero è che più che parlare di femminicidi, che effettivamente è una piaga assurda. Molto spesso ci troviamo di fronte a delle persone che sono destabilizzate, che hanno delle problematiche gravi mentali e che molto spesso non vengono riconosciute prima. Allora ci troviamo rispetto a queste persone che andrebbero curate. Qual è il messaggio che lancia alle donne? Il messaggio alle donne è di essere sempre più forti e coraggiosi e denunciare, denunciare, perché la denuncia non deve far più paura, perché lo Stato c'è, interverrà e ci sono una serie di strutture, adesso sempre di più con questo governo di centro-destra, che ci fanno ben sperare che la situazione va solo a migliorarsi. E il giorno dopo i funerali nel comune di Bollate di Marzia Capezzuti, la giovane torturata è uccisa a Ponte Cagnano-Faiano, nasce il comitato civico battezzato marzo 2022, sarà presentato domani mattina a Ponte Cagnano-Faiano. L'idea nasce dopo il doppio brutale assassino di Marzia Capezzuti ed Anna Borsa, uccisa nel salone di parruccheria dove lavorava sempre a Ponte Cagnano. Entrambi gli omicidi sono avvenuti nel mese di marzo del 2022. Dopo lunghi mesi la famiglia di Marzia Capezzuti ha potuto dare l'ultimo saluto alla giovane che a Ponte Cagnano-Faiano è stata torturata per mesi ed uccisa, stamani funerali a Bollate comune in provincia di Milano dove vive la famiglia che si era rivolta a chi l'ha visto per richiamare l'attenzione sulla sua scomparsa. Dopo 18 mesi dalla sua morte e il ritrovamento del corpo in un casolare lo scorso mese di ottobre che ha portato all'arresto dei coniugi vacchiano e del loro figlio quindicenne perché ritenuti gli autori del delitto per Marzia Capezzuti un funerale ed una sepoltura. Un omicidio che ha lasciato il segno ancora una volta nel comune di Ponte Cagnano-Faiano dopo il femminicidio di Anna Borsa uccisa a colpi di pistola il primo marzo del 2022 dall'ex compagno mentre lavorava in una parruccheria. Due donne che sono il volto di storie di vite spezzate riprese nel manifesto di invito di presentazione del comitato civico battezzato marzo 2022. Sarà presentato domani mattina a Ponte Cagnano presso il bar Carducci e formato da donne di diversa estrazione culturale e politica che hanno trovato l'unità sulle tematiche inerenti alla prevenzione della violenza di genere ed intendono portare avanti una serie di iniziative a tutela dei diritti negati. Il comitato costituisce un'azione di cittadinanza attiva. Nel corso della mattinata si raccoglieranno le adesioni come hanno dichiarato ai nostri microfoni le promotrici Lucia Zoccoli e Stefania Maffeo. Sì è così guardiamo a Milano pensiamo a Marzia siamo profondamente addolorati ancora la città è ancora sconvolta anche se quello che ci stupisce è il silenzio. Abbiamo voluto rompere questo silenzio perché sappiamo che ci sono stati dei problemi una scarsa valutazione del rischio che ha portato alla morte di questa giovane donna di cui tutti siamo colpevoli. A partire dalle istituzioni quelle deputate alla cura in particolare e al sostegno delle persone fragili e a tante altre istituzioni non possiamo attendere che la magistratura faccia il suo corso come giusto che sia ma dobbiamo pensare di coinvolgere tutte le forze sane della città perché questo non accada più perché guardate risulta impossibile avere una persona nelle condizioni in cui si trova a Marzia e non vederla non accorgersi quindi noi non cerchiamo vendetta però diciamo che ora qualcosa deve cambiare che la città deve rispondere meglio ai bisogni dei suoi concittadini perché comunità è questa comunità non è girarsi dall'altra parte non è cristallizzare i servizi ecco anche le politiche sociali devono essere più aperte perché il bisogno nasce quotidianamente non possiamo cristallizzare queste come dire questi interventi bisogna guardarsi anzi io invito le istituzioni a farsi un giro per la città a cavalcare i luoghi della stazione ferroviaria dei luoghi più remoti della città perché ci sono tante tante criticità prima di arrivare poi a quello che è successo a Marzia mai più una donna invisibile mai più situazioni come quella che ha vissuto Marzia nella nostra città la locandina scelta per la presentazione del comitato spontaneo raffigura tanti volti di donne tra loro c'è sicuramente in maniera simbolica Marzia Capezzuto ma c'è anche Anna Borsa esatto questo è ovviamente un momento in cui ricorderemo le vittime di episodi incresciosi che si sono verificati a Ponte Cagnano proprio a marzo 2022 che è il nome che abbiamo scelto per il comitato che presenteremo domani a Ponte Cagnano Faiano alle 10.30 al Bar Carducci un luogo simbolico al centro della città quello che volevo far presente è l'unione d'intenti al momento di tante donne di diversa estrazione sociale culturale politica ma soprattutto l'apertura che chiediamo alla città per avvicinarsi a questo comitato e cercare di unirci insieme per creare delle politiche attive sui diritti negati un comitato per dare voce al disagio per non tacere esatto noi vogliamo far sentire la nostra voce essere sentinelle nella città di Ponte Cagnano Faiano e soprattutto propositivi vi aspettiamo domani a Ponte Cagnano E tutto pronto invece per le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovato in via turco a battipaglia in programma per domani mattina l'evacuazione della zona rossa verrà a partire dalle 5 del mattino successivamente il 21esimo reggimento genio guastatori avvierà invece intorno alle 8 e 30 le operazioni di bonifica sentiamo scatteranno alle 8 e 30 di domani mattina le operazioni di bonifica per il disinnesco della bomba aerea di nazionalità inglese di 500 libri sganciata nel corso della seconda guerra mondiale ritrovata in via turco a battipaglia lo scorso mese di agosto l'evacuazione della zona rossa che interessa circa 3.500 cittadini e ristretta raggio d'azione di 352 metri dal luogo del ritrovamento partirà invece dalle 5 del mattino successivamente il 21esimo reggimento genio guastatori avvierà intorno alle 8 e 30 le operazioni di bonifica che dureranno al massimo 12 ore tenuto conto che l'ordigno per le sue caratteristiche non è trasportabile altrove in quanto dotato di spoletta non rimovibile a scoppio ritardato il comune di battipaglia guidato dalla sindaca cecilia francese ha attivato il centro operativo comunale che gestirà la struttura deputata all'accoglienza con particolare attenzione alle persone fragili disabili e bisognosi di assistenza esterna di tipo sanitaria e nella zona rossa invece stoppa ai servizi di luce gas acqua e telefonia la circolazione ferroviaria fra i comuni di battipaglia e ponte cagnano sarà sospesa a partire dalle 8 e 15 orario di passaggio dell'ultimo treno fino al completamento delle operazioni rfi per questo motivo ha modificato il programma di circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza regionale i treni alta velocità intercity saranno attestati a salerno e battipaglia sapri mentre i treni del regionale di treni italia saranno attestati nelle stazioni di salerno ponte cagnano e battipaglia predisposto un servizio di bus sostitutivi che coprirà la tratta interrotta domani concluderemo l'attività di pianificazione fatta nelle ultime settimane da un punto di vista del volontariato di protezione civile e delle forze operative sul campo saranno già presenti alle 3 di questa notte proprio per poi operare dalle 4 e 30 nell'area rossa tengo a sottolineare che l'evacuazione è prevista dalle ore 5 e dentro le ore 8 ma che già le 7 circa verrà interrotta la fornitura di energia elettrica quindi invitiamo i cittadini a provvedere e regarsi presso le serie alternative che loro hanno individuato tra cui il centro di accoglienza dove si può accedere tramite prenotazione e al più presto così da poter incominciare prima e quindi fare il rientro stesso nella serata di domenica ancora 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 prima e per quanto riguarda l'energia elettrica oltre alla zona rossa teniamo a sottolineare che verranno coinvolte delle strade immediatamente limitrofe all'area di evacuazione in particolare alcune strade del rione stella in prossimità di via sepe petrocchi via caglieri via nuoro quindi in prossimità dell'istituto alfonso affonso gatto e le famiglie le abitazioni sono state già avvisate in un'attività di porta a porta lo stesso alcune stradine di via roma via 4 novembre e a seguire verranno coinvolte dall'interruzione dell'energia elettrica anche se non in zona rossa e in particolare alcune strade del rione salvatore rosa del rione turco lì verrà coinvolta anche l'interruzione della fornitura elettrica a un pozzo dell'asis quindi già avvisiamo i cittadini che abitano in quelle zone zone salvatore rosa variante stata statale 18 vicino allo stadio passena che non c'è la possibilità che non avranno neanche la fornitura idrica quindi di provvedere nella giornata odierna a delle piccole riserve per affrontare la giornata di domani prevista proprio del bomba bomba dei come detto poc'anzi è stato previsto anche un centro di accoglienza ringraziamo la disponibilità come sempre dell'istituto ferrari che oltre ad aver dato la disponibilità di accogliere i cittadini forniranno la prima colazione e il pranzo a tutti gli ospiti che si regheranno al centro di accoglienza sottolineiamo è necessaria la prenotazione telefonando al numero unico di emergenza o tramite un'applicazione indicata sui siti sui social sui manifesti che sono stati affissi sul territorio comunale oltre che i passi a tutte le forze impegnate in questa in questa in giornata quindi invitiamo veramente come è stato fatto sempre i nostri concittadini diciamo a città di battivale in questo si è sempre distinto a seguire le indicazioni che già hanno ricevuto nei giorni precedenti ma anche che domani mattina verranno svegliati purtroppo dai messaggi vocali che verranno emanati dalla dalle autovetture proprio nella 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 zona rossa Anfas Salerno celebra due importanti momenti degli ultimi giorni Enrico delle Serre il salernitano portavoce nazionale della Piam e autorappresentante di Anfas Salerno Onlus è stato a Rimini nei giorni scorsi per partecipare all'evento nazionale Expo Aid invitato direttamente dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli dove ha tenuto il suo toccante monologo nel quale rimendica i diritti di tutte le persone con disabilità Enrico delle Serre ha conquistato anche un altro titolo l'altro giorno a Roma ha vinto il concorso dell'agenzia delle dogane dei monopoli del un concorso disegniamo la fortuna che vedrà riprodotto il suo disegno sui biglietti della lotteria Italia. Grande gioia ed emozione per il salernitano Enrico delle Serre che nei giorni scorsi invitato dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha avuto un notevole momento di spicco e di risalto per Anfas Onlus Salerno partecipando all'Expo Aid di Rimini l'evento istituzionale dedicato al terzo settore all'associazionismo presentando per la prima volta a livello nazionale il suo toccante monologo con il quale rivendica in prima persona i diritti di tutte le persone con disabilità. Sono Enrico una persona con la sindrome di Aspeger sono il portavoce nazionale della Piam piattaforma italiana degli autorepresentanti movimento io cittadino, il primo movimento di autorepresentanti italiano creato da Anfas. Intorno a me ci sono ancora molti stereotipi e discriminazioni che costituiscono barriere e ostacoli per la mia autonomia e libertà. Tante persone fanno supposizioni sulla mia capacità di comprendere, di provare emozioni, di amare e di sognare limitandosi unicamente a guardare la mia disabilità. La verità è che ho molti sogni, passioni, talenti e desideri proprio come chiunque altro. L'altro giorno a Roma Enrico Delle Serre portavoce nazionale della Piam e autorappresentante di Anfas Onlus Salerno ha vinto invece con l'opera La musica unisce con l'allegria la terza edizione del concorso Disegniamo la Fortuna con ADM rivolto ad artisti con disabilità conquistando la riproduzione del suo disegno sui biglietti della Lotteria Italia. Un doppio importante riconoscimento per Enrico che segue di pochi giorni l'evento nazionale di Expo AID. Ho sogni e ambizioni che bruciano dentro di me, sogno di essere considerato per quello che sono, di avere le stesse opportunità degli altri, di esprimere il mio potenziale e di partecipare attivamente alla comunità prendendo in mano la mia vita. Ho talenti e passioni, sono un amico, un figlio, un fratello, un membro di questa comunità e con i giusti sostegni posso essere anche una preziosa risorsa e dare il mio contributo all'intera società. Insomma, io so più di una disabilità, sono una persona con una storia, una voce e una serie di realizzazione. Sono qui per dimostrare che tutti insieme possiamo costruire un mondo più che inclusivo. Solo insieme noi ci assicureremo che la nostra sia l'ultima generazione di persone con disabilità intellettiva che vive discriminazioni, esclusione e negazione dei propri diritti. Grazie. È stata un'importantissima occasione per dare voce alle tante persone con disabilità e per richiamare l'attenzione alla partecipazione alla vita sociale, politica e civile, così il presidente di Anfas Salerno, Salvatore Parisi. Il monologo che magistralmente ha rappresentato Enrico è la sintesi perfetta di ciò che le persone con disabilità richiedono alla comunità e per tutti deve rappresentare la strada maestra per il miglioramento della qualità della vita. Un ringraziamento particolare va da Anfas Salerno alla fondazione Anfas Salerno Giovanni Caressa, alla cooperativa sociale Icaro a Marchio Anfas e a tutti i collaboratori per il lavoro e per il percorso svolto al fianco di Enrico Delle Serre e di tante altre persone con disabilità e le loro famiglie, ha concluso il presidente di Anfas Salerno, Salvatore Parisi. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale Salerno. Rinnova domani a primo ottobre presso la stazione marittima del Molo Manfredi di Salerno, l'appuntamento con un mare di solidarietà. La manifestazione è organizzata dall'AIL, la sezione Marco Tulimieri di Salerno, in collaborazione con le associazioni ASD Marina, Ipotenusa Marina e ASD Divertivento. L'iniziativa, giunta alla quattordicesima edizione, intende proseguire l'operato del comandante Mimmo Avaiano, socio dell'Associazione Divertivento, ideatore e organizzatore delle precedenti 10 edizioni. In questa occasione sarà conferito per la seconda volta il premio Mimmo Avaiano, riconoscimento per quanti si impegnano fattivamente in attività solidali a promuovere i valori dell'inclusione e dell'uguaglianza. Un mare di solidarietà ha l'obiettivo di far trascorrere una giornata sulle barche a vela, le persone affette da patologie onco-ematologiche e può considerarsi la tappa zero di un progetto più ampio denominato Veliamoci Bene, che prevede a partire dall'autunno la calendarizzazione di una serie di incontri relative uscite in mare grazie al supporto delle stesse associazioni che sono già parte attiva di questa iniziativa. Ed ora è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Al Cinemateatro San Demetro di Via Dalmazzi a Salerno, quest'oggi è in programma il film Hoppenheimer, due gli spettacoli alle 16.30 e alle 20.30. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089. Gara all'Arechi con l'Inter, ne parliamo tra poco nella pagina dedicata allo sport, al calcio, non prima però di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo. A tra poco. Ristorante Eureka, i sapori del mare Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Ed ora il basket. La GV Vascafati inizierà la sua seconda stagione consecutiva nella massima serie dinanzi al proprio pubblico. Alla beta ricambi Arena del Palamangano sarà ospitata una delle società più blasonate del panorama cestistico nazionale. Alle 19.30 di domani sera, domenica 1 ottobre, sarà alzata la palla 2 della sfida tra i padroni di casa e la Virtus Segafredo Bologna, recentemente trionfatrice in Supercoppa, con coach Luca Banchi appena arrivato al posto di Sergio Scariolo. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi rimando alle prossime edizioni. Grazie come sempre per averci preferito. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand. Grazie a tutti.